risalgono i contagi nelle marche 40 nuovi casi di covid dieci giorni alle elezioni regionali ecco come si voterà vessazioni e insulti sessisti la candidata sabrina santelli passa alle denunce presentata la megabox valle foglia che sogna una due da protagonista buona serata benvenuti al nostro telegiornale in questo giovedì 10 settembre apriamo questa edizione parlando degli aggiornamenti del coronavirus perché l'ultima giornata ha registrato una preoccupante impennata di casi di contagio il gores ha infatti comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1641 tamponi nella regione marche e i casi positivi rilevati sono 40 nel percorso nuove diagnosi più del doppio dei numeri rilevati nella giornata di ieri 18 di questi casi sono riconducibili alla provincia di ascoli piceno ma sono ben 15 anche i nuovi casi nella provincia di pesaro urbino più contenute le cifre che arrivano dalle altre province quattro da lanconetano tre dal maceratese fra questi casi spiccano 14 rientri dall'estero e in particolare da cina ucraina albania macedonia e moldavia ed ora una piccola comunicazione riguardante appunto la cronaca nella giornata di oggi infatti c'è stato un incidente sul lavoro questa mattina pesaro in via 11 febbraio dove un è stato colpito da una trave durante i lavori di ristrutturazione della scuola ex morselli sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e gli operatori del 118 che hanno soccorso l'uomo rimasto sempre in stato di coscienza mancano esattamente dieci giorni alla chiamata le urne per le elezioni del nuovo governatore della regione marche nel prossimo servizio quindi andiamo ad approfondire come quando e dove si voterà il 20 e 21 settembre i cittadini della regione marche sono convocati a votare il loro nuovo governatore le marche sono infatti una delle sette regioni chiamate alle urne per eleggere il proprio consiglio regionale assieme a campagna liguria puglia toscana veneto e valle d'aosta quando si vota si comincia domenica 20 settembre alle 7 di mattina e lo si potrà fare per tutta la giornata fino alle 23 lunedì 21 settembre sarà ancora possibile votare dalle 7 fino alle 15 dove si vota si voterà soprattutto nelle scuole nonostante la stessa regione abbia incentivato con contributi straordinari quei comuni marchigiani che non avrebbero utilizzato i plessi scolastici e invece nella maggior parte dei casi le scuole che riapriranno i battenti lunedì 14 settembre dovranno richiuderli lunedì successivo per lasciare spazio alle urne come si vota la scheda per le regionali sarà di colore arancione anziché del tradizionale colore verde questo perché sarà di colore verde la scheda elettorale per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari per i quali si esprimerà un voto sì o no nella stessa due giorni di tornata elettorale per le elezioni regionali ogni votante esprimerà la sua preferenza per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo si potrà esprimere fino a due preferenze nel caso di più preferenze espresse queste devono riguardare candidati di sesso diverso pena l'annullamento della seconda preferenza se l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto sarà automaticamente valido anche a favore del candidato presidente collegato alla stessa lista la preferenza al candidato consigliere potrà invece essere espressa indicando o solo il cognome del candidato oppure cognome e nome si potrà anche votare soltanto per il candidato presidente senza aggiungere alcun voto di lista è invece vietato il voto disgiunto non saranno infatti validi i voti espressi a favore di una lista provinciale e a un candidato presidente non collegato alla lista stessa per chi si vota non è per luca ceriscioli il mandato del governatore pesarese è agli sgoccioli e lascerà lo spazio a un volto nuovo i candidati a subentrargli sono otto la coalizione di centro-sinistra sarà espressa dalla candidatura di Maurizio Mangialardi quella di centrodestra da Francesco Acquaroli giammario mercorelli è il candidato per il movimento 5 stelle fabio pasquinelli per il partito comunista alessandra contigiani per riconquistare l'italia roberto mancini per dipende da noi Anna Ritaiannetti per Movimento 3V e Sabrina Paola Abanzato per Vox Italia Marche e continuiamo nel nostro telegiornale a conoscere i candidati al prossimo consiglio regionale Luca Serfilippi 33 anni leghista ex assessore comunale a Fano e detentore del record di presenze alle ultime elezioni amministrative ha infatti illustrato i punti del suo programma a sostegno della candidatura a governatore di Francesco Acquaroli vediamo Il centro storico di Fano è invaso dalle sedi dei candidati ma la sua non c'è Luca Serfilippi ha scelto un'altra strada anzi la campagna elettorale dell'ex assessore comunale per le imminenti elezioni regionali si svolge proprio sulla strada il giovane candidato della Lega ha noleggiato un pulmino e da settimane sta incontrando gli abitanti delle città e dei piccoli borghi della provincia per ascoltare i loro problemi ed eventualmente in caso di elezione provare a risolverli. Ho 33 anni e ho una gran voglia di fare di cambiare il sistema a cui il PD purtroppo ci ha sottoposto in questi ultimi 30 anni parto dalle 1015 preferenze dello scorso anno dei cittadini fanesi ma tanti cittadini mi chiedono cambiamento io sto a differenza di altri sto andando tra la gente quindi casa per casa azienda per azienda perché con il pulmino mi piace andare in mezzo la gente e non il politico che riceve il cittadino e questa è la mia politica che mi ha pagato fino ad oggi e continuerò a fare anche dopo le elezioni. I punti programmatici di Ser Filippi sono quelli cari a tutto il centrodestra dalla sanità alle infrastrutture passando per il lavoro giovanile il cui rilancio potrebbe rivelarsi un antidoto contro lo spopolamento dei territori. I temi sono tanti ma il primo è sicuramente quello della sanità completamente da riscrivere perché sono stati chiusi ospedali e creati di servizi ai cittadini agli anziani a chiunque voglia prenotare anche una semplice visita specialistica addirittura in alcuni casi non è stata data nemmeno una data questo è il primo tema il secondo è quello delle infrastrutture noi da 30 anni sentiamo parlare di Fano Grosseto di ferrovia Fano Urbino io propongo la ciclabile anche lungo il fiume Metauro ma di fatti ne abbiamo visti ben pochi di fatto ci sarà sicuramente il sottoscritto che si batterà per far sì che al posto delle parole parlino i fatti e il terzo tema è quello del lavoro ci sono tanti giovani che purtroppo sono costretti a fuggire a scappare dalla nostra terra abbiamo una provincia bellissima da riqualificare da tutelare e da sviluppare mi vien da dire quindi l'obiettivo mio è quello di creare le basi per far sì che i nostri giovani abbiano un lavoro una casa e un welfare questo significa politiche attive andare incontro alle aziende che vogliono sviluppare qua politiche per la casa ci sono tanti giovani che per trovare una casa devono aspettare i 40 anni questo non è possibile abbiamo delle case popolari che dovremo dare a canone concordato e agevolato per i giovani per le giovani coppie in terzo e ultimo il welfare cioè una famiglia giovane per fare figli deve aspettare e spendere tanti soldi l'obiettivo mio è quello della lega è quello di dare asilo gratis a tutte le famiglie e a tutti i bambini che che per fortuna ancora nascono nel nostro territorio ed ora passiamo da un candidato di centro-destra ad una candidata del centro-sinistra nella prossima intervista infatti ascolteremo il delicato caso di sabrina santelli assessore comunale a pergola e candidata con rinasci marche lista a sostegno di maurizio mangialardi la santelli nell'ultimo periodo è stata vessata da insulti social e da lettere anonime e ora è passata le denunce avrei preferito ovviamente farne a meno di essere insomma la ribalta della cronaca o perlomeno esserci per motivi meno deprimenti la lettera è arrivata a fine luglio mi sembra è stata recapitata insomma a mio padre era indirizzata a lui quando ancora io non avevo ufficializzato la mia candidatura quindi è stato secondo me un modo a parte meschino vile di farmi desistere credo perché nella lettera sono tutti elementi che dovevano far sì che mio padre potesse ecco farmi desistere quello che ecco io mi dico è che il fatto no che tu puoi pensare quindi questo viene da una cultura maschilista patriarcale retrograda e diciamo quasi medievale perché però comunque ancora permeano parte della società anche della mia comunità pergolese purtroppo pensare che ecco il mio padre possa avere la proprietà anche intellettuale sulla figlia quindi il capo famiglia ancora può dire la sua sulla figlia che insomma cinquantenne quindi ecco qua siamo proprio fuori fuori strada anche perché se io sono la persona che sono comunque determinata che già si è messa ci ha messo la faccia nella tornata elettorale delle del mio comune un anno fa se adesso comunque ho di nuovo deciso di mettermi in gioco per poter rappresentare tutte le aree interne quindi dare una voce delle nostre aree in regione sicuramente e sono la persona che sono grazie all'educazione di mio padre e di mia madre per cui la denuncia che ho fatto poi anche perché si sono succeduti altri fatti poi c'è stata anche un diciamo un delle voci che hanno screditato proprio la mia condotta morale e quindi lì ovviamente era forse più mio marito che no in qualche modo poteva essere anche la vittima indiretta è deciso di denunciare pubblicamente no questi tre episodi uno più grave dell'altro non tanto per riabilitare la mia dignità io non ho bisogno la gente mi conosce il fatto che un anno fa nel maggio 2019 preso quasi 600 voti significa che insomma la gente mi apprezza e riconosce insomma no alcuni valori che incarno che sempre incarnato la mia è una storia di coerenza la mia vita per cui l'ho voluto fare proprio per innanzitutto riabilitare e in qualche modo no i miei genitori che si sono veramente sentiti mortificati e per per mio marito ma soprattutto voluto denunciare no anche le battute sessiste per i miei figli perché io che sono poi mamma di tre figli maschi ho veramente il dovere morale di insegnare ai miei figli e questo è un modo per farlo il rispetto di genere il rispetto soprattutto nei confronti delle donne io mi auguro che questa che questa vicenda innanzitutto possa possa cercare di far ragionare riflettere sulla gravità della dell'utilizzo di certi anche strumenti come facebook questa libertà totale nello scrivere queste parole che non hanno più valore invece per me le parole hanno valore l'impegno magari anche mio nel momento in cui dovessi diventare consiglio regionale in questo senso quindi una legge che possa come dicevo prima tutelare maggiormente quindi delle pene più severe anche per chi scrive cose veramente indecenti e indicibili e prosegue anche la nostra marcia di avvicinamento al complesso ritorno in classe per gli studenti pesaresi oggi andiamo a conoscere la situazione dell'alberghiero Santa Marta che ci viene illustrato dal preside Roberto Franca. Noi abbiamo sfruttato un pochettino inizialmente una un'opportunità che abbiamo come scuola professionale nel senso che le otto classi o quarte da noi non inizieranno in presenza ma cominceranno subito a fare lo stage in alternanza tutti gli altri invece tutte le altre classi invece saranno in presenza e questo ecco ci permette di iniziare insomma volevo anche tranquillizzare le famiglie bene il più possibile poi quando avremo anche un orario definitivo è prevista una data anche la particolarità della nostra scuola appunto alberghiera professionale la possibilità di fare sempre in presenza le attività laboratoriali che è fondamentale perché è difficile pensare a un cuoco in cucina a distanza anche se ci sono molte trasmissioni che fanno vedere in tv o altro però bisogna imparare facendo insomma praticamente quindi per tutte quelle ore sarà sempre la presenza in classe poi è previsto quindi per altre giornate magari la didattica integrata a distanza quindi noi siamo una scuola che lavora già su cinque giorni alla settimana quindi il sabato non c'è scuola per cui riusciremo attualmente come abbiamo strutturato di fare tre giorni in presenza e due giorni a distanza la classe però non dividiamo la classe a metà cioè tutta la classe in presenza tutta la classe a distanza ci è sembrata un modo per far fronte a queste difficoltà che ancora permangono un pochettino più che altro negli organici ecco se riusciamo ad avere più organico possiamo anche qualche classe riuscire a gestirla al meglio io a questo proposito comunque ringrazio molto la provincia perché si è attivata subito anzi sono ancora i lavori in corso purtroppo non riusciranno a finire per il 14 quindi ecco anche questa situazione è un po così ancora da definire siamo in itinere diciamo work in progress come si dice però ecco c'è stato un allargamento di un'aula molto importante e quindi che ci ha permesso di almeno una classe di quelle problematiche a tenerla in presenza ma soprattutto i laboratori il problema che dicevo prima abbiamo puntato a far sì che siano presenti nei laboratori purtroppo permangono due classi molto numerose eravamo in attesa e siamo ancora in attesa di questo sdoppiamento per i laboratori però ecco per fare tutti in presenza abbiamo ampliato un laboratorio di pasticceria abbiamo costruito un nuovo laboratorio proprio di sala e accoglienza e ha ampliato un'aula e quindi ecco insomma si stanno facendo tante cose poi la provincia ci ha garantito anche un container e quindi in qualche modo riusciamo anche a creare degli spazi perché per creare gli spazi dobbiamo anche cioè non possiamo buttare via quello che abbiamo ma cerchiamo di sistemarlo in questi container insomma ecco diciamo che per il momento le cose stanno andando bene potrebbero andare sicuramente meglio come torno a dire con gli organici e poi vediamo un po il rodaggio di questo di questo diciamo da ottobre ci sarà un rodaggio vero e proprio perché lì ci sarà anche una turnazione di classi ovviamente adesso i primi 15 giorni un po particolare perché sono solo le quarte che non vengono in presenza ma torno a dire fanno alternanza scuola lavoro stagio quindi quello che era previsto durante l'anno l'abbiamo anticipato in realtà subito visto anche la possibilità covid permettendo visto che i nostri lavoreranno molto nel nei ristoranti no ancora riusciamo a fare lavorare quindi possiamo possiamo abbiamo optato per questa scelta ed ora parliamo di scuola e di trasporto pubblico perché attraverso un comunicato congiunto adriabus e dei comune di urbino rassicurano tutte le famiglie che usufruiscono del trasporto pubblico per raggiungere le scuole materne elementari e medie del comprensorio i servizi con le attuali regole saranno garantiti per tutte le scuole di urbino da adriabus arriva comunque un accorato invito a cautela prudenza e responsabilità da parte dei genitori affinché i bambini viaggino responsabilmente adriabus quindi invita a misurare la febbre ogni mattina igienizzare le mani prima di salire a bordo e indossare obbligatoriamente la mascherina all'interno dei bus per i bambini al di sopra di sei anni ed ora il nostro consueto spazio dedicato alle vostre segnalazioni vi ricordiamo come sempre il numero di telefono 370 366 72 10 e oggi cominciamo con queste foto che ci sono arrivate da una telespettatrice indignata per i comportamenti di alcuni ragazzi immortalati nel rovinare i giochi dedicati ai bambini più piccoli all'interno del parco del quartiere di tombaccia nelle foto come potete vedere come potete appunto notare alcuni ragazzi hanno deciso di percorrere uno scivolo con la bicicletta e un'altra segnalazione riguarda una telespettatrice che ci ha inviato delle foto riguardanti degli esterni della scuola di cattabrighe a pochi giorni dall'apertura dell'anno didattico di lunedì esterni che come si può notare dalla foto sono pieni di escrementi di piccione ancora segnalazioni in questo caso ci arriva un reclamo dal comitato di via mazza che ha inviato alcune foto che mostrano un degrado che dura da anni e che continua nonostante le ripetute proteste da parte dei cittadini che abitano proprio in questa zona di via mazza si tratta del retro del famigerato palazzo rosso diventato da tempo e nonostante le proteste una discarica di materiali non ecologici e adesso ci spostiamo a valle foglia la giunta comunale infatti ha confermato lo svolgimento della quarta edizione della fiera di san michele arcangelo che si terrà a talacchio nell'ultimo weekend di settembre nel primo weekend di ottobre se la situazione sanitaria non mostrerà peggioramenti il comune assicura che il luogo e la manifestazione hanno tutti i requisiti per lo svolgimento in massima sicurezza e ora ci spostiamo a fano perché cresce invece il malcontento per la variante gimarra si tratta del prolungamento degli interquartieri che dalla rotatoria di via aldomoro sbucherà sulla statale 16 poco meno di un mese fa il voto favorevole del consiglio comunale dopo che la giunta serie ad inizio agosto aveva deciso di investire 20 milioni di euro della regione in quest'opera c'è rabbia nel quartiere dove sono state raccolte oltre 1200 firme per opporsi alla realizzazione della variante e torniamo a parlare di liliana segre perché oggi 10 settembre compie 90 anni la senatrice a vita testimone degli orrori della shoah ha ricevuto pubblicamente gli auguri del sindaco di pesaro matteo ricci attraverso i canali di comunicazione del primo cittadino pesaro ha ricordato ricci ha voluto fare in anticipo un regalo alla segre inaugurando la scorsa settimana il murales realizzato al campus scolastico per custodire la fiaccola della memoria e rinnovare l'impegno istituzionale nelle scuole alle quali la segre in questi anni ha dedicato tante energie con generosità ed ora gli appuntamenti nella piccola galleria comunale di via branca 5 è stata inaugurata oggi la mostra metamorfosi il nostro benessere in balia del cambiamento un'iniziativa che sostiene l'assistenza specialistica e domiciliare gratuita dell'ante alla mostra espongono giovani artisti della scuola del libro di urbino con 30 opere fra quadri video fotografie e sculture la mostra sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle 10 alle 22 fino a giovedì 17 settembre ed ora passiamo allo sport in particolare al volley perché ieri sera la squadra 2020 2021 della megabox valle foglia è stata presentata al ristorante urbino dei laghi andiamo ad ascoltare quindi protagonisti della stagione di serie a 2 di volley a cominciare dall'allenatore fabio bonafede fresco della firma su un contratto quinquennale con la squadra di valle foglia è stato emozionante perché durante il lockdown la palestra ci è mancata molto erano diventati degli argomenti molto distanti quasi astratti e si ci sentiva quasi ridicoli a parlarne avevamo una grande amarezza dovuta al fatto che la squadra era lanciata avremmo voluto serenità avremmo voluto vivere una normalità fatta di sport per vedere come andava a finire ci ritrovavamo contemporaneamente sopraffatti dai fatti di attualità quindi dal fatto che effettivamente la vita poi è un'altra roba per tornare in palestra è stata una gioia incredibile con un gruppo nuovo una spruzzata di normalità ma specie in un posto come Montecchio dove il covid si è fatto sentire poter riuscire a iniziare a fare pallavolo e dare un messaggio anche positivo alla gente è stato bello non si è concluso il campionato di b1 si rinizia il campionato di serie a 2 sì abbiamo fatto questa scelta in un periodo in cui tutte le altre squadre puntano un po' a risparmiare a mantenere le posizioni noi abbiamo voluto investire perché ci sembrava che il lavoro dell'anno scorso lo meritasse come finalizzazione ho alzato un po' rasticella ma questo volere era nato prima del covid e non mi sono voluto tirare indietro con sacrifici con voglia e volontà percorriamo questo percorso l'ultimissima cosa è quella che può riguardare il pubblico sperando poi di rivedere il palazzetto pieno quest'anno c'erano i presupposti per riempirlo però purtroppo questa situazione ci penalizza un po' mi sarebbe piaciuto molto vedere le gradinate piene di spettatori di supporto e quant'altro quindi però accettiamo anche questa disposizione che comunque tutela la salute di tutti è veramente per noi un grande orgoglio perché nello sport nelle diverse discipline femminili e maschili sono migliaia e migliaia di ragazzi e di ragazze che fanno attività sportiva, che fa bene alla salute, che mantiene in forma e poi una giusta ambizione, una giusta ambizione di questa azienda, di questa squadra che punta ad essere leader nella 2 per poi puntare magari il prossimo anno, i prossimi anni alla 1 e quindi per noi veramente siamo orgogliosi, siamo convinti che Vallefoglia possa portare fortuna io di solito ho giocato quasi tutte le partite della mia vita, le ho quasi sempre vinte quindi spero di portare fortuna anche a Megavoxa, questa squadra che mi pare abbia tutte le carte in regola per giocare tutte le partite con successo E dal volley passiamo al rugby con la Mobility Pro Pesaro che affronterà la prossima stagione di Serie A con ben 7 giovani pesaresi promossi definitivamente dall'Under 18 Si tratta di Simone De Angelis, Giacomo Agostini, Luca Cardellini che trova nella Signoresi il fratello Giacomo Marco Galli, Giacomo Ravagnan, Luca Guerra e Riccardo Dell'Acqua E allora eccoci pronti a raccontarvi quella che sarà la prima serata di Rossini TV alle 21.15 parliamo ancora di sport e in questo caso in collaborazione con Fisioradis Center di Pesaro questo evento organizzato, una ciclo pedalata con Jader Fabri, famoso nutrizionista che noi abbiamo raccontato con delle immagini video bellissime col drone che ha accompagnato tutti questi ciclisti nel nostro bellissimo territorio e vi segnaliamo anche buongiorno Rossini nella giornata del sabato infatti la rassegna stampa di Rossini TV arriva anche il sabato mattina allo stesso orario 7.20 in diretta TV e diretta Facebook questo sabato ci sarà Marco Cadeddu alla conduzione e allora grazie come sempre per averci seguito domani mattina l'appuntamento appunto con la rassegna stampa condotta da Daniele Sacchi buona serata grazie a tutti